Musica Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telebari da Roberto Maggi. In primo piano è inaugurato il nuovo anno giudiziario del Tribunale Amministrativo della Puglia. Il Presidente Angelo Scafuri ha dedicato la cerimonia alle vittime della pandemia e della guerra. Tutti i dettagli in servizio di Cristina Ferrigni. Il particolarissimo momento storico di pandemia e di guerra fa volgere il pensiero intriso di intensa commozione alle troppe vittime della violenza sulla natura e sugli uomini. La celebrazione di quest'anno giudiziario valga come auspicio di un ritorno celere alla normalità. Così il Presidente del Tar Puglia, Angelo Scafuri, in apertura della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Bari sulle note del va pensiero di Giuseppe Verdi. Analizzando il contenzioso 2021, il Presidente ha evidenziato che ormai il giudice amministrativo entra in ogni rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Un rapporto che da essere tra libertà e autorità adesso implica con l'emergenza sanitaria anche il difficile bilanciamento tra interessi individuali e collettivi. Dalla didattica distanza all'esenzione dall'obbligo vaccinale. Il cosiddetto diritto emergenziale ha implicato tantissimi contenziosi particolari e soprattutto molto delicati sul piano dell'equilibrio della decisione. Con il PNRR, aggiunto Scafuri, si apre una nuova sfida perché la stessa giustizia amministrativa è chiamata a dare un contributo diretto al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mediante una consistente riduzione del numero dei ricorsi ancora pendenti. Quanto ai dati, il 2021 ha registrato una percentuale del 134% dei ricorsi definiti, 2076, rispetto ai nuovi introitati, 1345, con un saldo di 3041 ricorsi pendenti. E parliamo invece dell'accoglienza profughi ucraini. Regioni e associazioni degli albergatori sottoscrivono un accordo, quadro per l'utilizzo immediato di strutture ricettive e alberghiere. Ora si attende la pubblicazione delle manifestazioni di interesse. L'accordo c'è, ora si attende la pubblicazione delle manifestazioni di interesse da parte dei comuni per definire, nero su bianco, l'esatto montare delle risorse disponibili. Parliamo dell'accordo quadro sottoscritto tra Regione Puglia e le associazioni di categoria degli albergatori, Confcommercio Federal Belgi Puglia, Confesercenti Assotel Puglia e Confindustria Puglia Turismo, per offrire ospitalità alle persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive presenti sul territorio regionale. L'accordo mira ad assicurare una soluzione di alloggiamento e assistenza temporanee, qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le strutture ordinarie del CAS o del SAI, messe invece a disposizione delle prefetture. Una ventina di comuni hanno già aderito e quindi nelle prossime ore verranno banditi degli avvisi pubblici per avere la disponibilità delle stanze di albergo. In questo momento non sono state ancora utilizzate perché ci sono ancora dei posti disponibili nei centri CAS gestiti direttamente dalle prefetture. Quando finiranno l'accoglienza avverrà attraverso la rete dei comuni che poi sistemerà i profughi all'interno delle stanze di albergo, ma momentaneamente in attesa che aumentino i posti letto da parte delle prefetture. Le strutture ricettive coinvolte si impegnano dunque ad una ospitalità tariffa congrue e calmierata e con assistenza in lingua ucraina. Spetterà poi agli ospiti scegliere il tipo di trattamento, dalla pensione completa a 60 euro giornalieri pro capite, al pernottamento più prima colazione a 35 euro pro capite al giorno, gratuità per i bambini fino ai due anni compiuti in camera con i genitori. Da qualche giorno è iniziato un afflusso di spostamento dalle regioni del nord Italia in Puglia. Per esempio ieri sono arrivati 40 profughi ucraini da Rimini, a cui era stato già fatto lo screening sanitario e sono stati distribuiti nei centri CAS grazie al lavoro della prefettura di Bari. Indagini sono in corso invece da parte della squadra mobile della Questura sull'accoltellamento. È venuto nella tarda serata di ieri in una pizzeria di Via Fanelli al quartiere San Pasquale. Quanto si apprende un uomo avrebbe prima litigato con un dipendente della pizzeria perché avrebbe voluto saltare la fila delle persone in attesa di sedersi per cenare. Quindi sarebbe andato via e tornato poco dopo con altri due uomini. Uno di loro da accertare se lo stesso uomo che aveva litigato con il cameriere o un altro avrebbe accoltellato il dipendente ferendolo ad una gamba per poi fuggire. Il ferito è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Adesso invece ci colleghiamo con il nostro sito web www.telebari.it per tutti gli aggiornamenti dalla rete Italo 5 Palmi, vengo da te. Buonasera Roberto, il Tribunale di Bari ha archiviato l'indagine sulla morte di un bambino di 18 mesi travolto e ucciso il 6 marzo 2021 dall'auto guidata dal padre di nazionalità cinese durante una manovra in retromarcia nel piazzale antistante a un ristorante gestito dalla famiglia alla periferia di Modugno. Fu una tragica fatalità secondo il PM che ha coordinato le indagini dei carabinieri, Lanfranco Marazzia e il GIP che ha accolto la richiesta di archiviazione Giuseppe Battista. L'uomo, come accertato dalle analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, si trovava nell'impossibilità di scorgere la presenza del piccolo che all'improvviso, quando il padre era già alla guida con l'auto in moto e i fari accesi, si posizionò sulla parte posteriore della macchina, certamente al di fuori del campo visivo del conducente. Dopo essersi accorto di aver travolto il figlio, il 31enne tentò anche una disperata corsa in ospedale per salvarlo, ma le lesioni erano troppo gravi. Il magistrato, concluse le indagini, ha ritenuto che una sfortunata sequenza di eventi fortuitamente dava luogo alla più tragica e dolorosa delle conseguenze, la morte di un bambino per effetto della condotta penalmente non rimproverabile del suo genitore. Bene, con questo è tutto per il momento, a dopo per altre notizie. Grazie Italo e noi proseguiamo sempre con le notizie dalla città, il Movimento Riprendiamoci il Futuro ha organizzato un corteo di protesta per denunciare le condizioni di Corso Italia, i manifestanti hanno chiesto più sicurezza nella zona denunciando la chiusura di servizi essenziali come gli uffici anagrafici, gli sportelli Amgas presenti nella sede del primo municipio e il distretto sanitario di via Crisanzio. I partecipanti al corteo sono partiti da via Nicolai, Angolo via Trevisani, hanno percorso via Crispi, via Manzoni e via Crisanzio. E con la fine dell'emergenza legata al Covid ripartono anche i riti della quaresima con la processione della dolorata per le vie della città e il servizio. Preghiere e invocazioni dedicate alla Vergine, musiche sacre e marce funebri accompagnano la Madonna della dolorata in processione. La statua con il fazzoletto bianco fra le mani e l'abito nero, prototipo della materna sofferenza che non ha confini di spazio e di tempo, attraversa le vie della città fermandosi durante il percorso in alcune chiese del centro storico di Bari. In corteo i devoti che accompagnano la Madonna nel lungo percorso, l'itinerario come per gli scorsi anni prevede la sosta in piazza Ferrarese nella cattedrale di Bari per poi riprendere il cammino dopo la cerimonia eucaristica e rientrare in serata nella sua casa al santuario di Sant'Antonio. Con la processione della dolorata si apre ufficialmente il programma dei riti della settimana santa fermi da due anni a causa della pandemia. Venerdì prossimo la processione dei misteri che partiranno dalla vallisa. E noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Torniamo a parlare delle notizie dalla città, fa tappa nel capologo pugliese il live in Bari di Sky TG24, una due giorni dedicata all'informazione, vediamo quali sono stati le principali notizie. Torniamo in diretta e parliamo dello Sky Live in Bari, l'appuntamento di Sky TG24 itinerante dedicato all'informazione una due giorni che ha scelto proprio Bari, il capologo pugliese per questa tappa. Una a due giorni dedicata all'informazione direttamente a contatto con i cittadini, la diretta dal teatro Cursal Santa Lucia, Sky TG24 fa tappa nel capologo pugliese con il live in Bari. Per questo venerdì e questo sabato il telegiornale della grande piattaforma trasmetterà nel teatro recentemente restituito agli spettacoli un'esperienza già sperimentata a Courmayé da parte di Sky che questa volta ha scelto di spostarsi al sud. Una decisione non casuale ha spiegato il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis. La scelta che è ricaduta su Bari proprio perché è integrato ovviamente il capoluogo regionale della Puglia che è una regione che ci interessava particolarmente, avevamo visto quello che la Puglia, le performance della Puglia prima del Covid che erano delle performance di crescita importante, abbiamo immaginato che la Puglia fosse il posto ideale per raccontare la rinascita del sud dopo il Covid. Nel frattempo poi, circostanza purtroppo non fortunata ma comunque utile, Bari è anche la città che noi consideriamo una porta e una finestra per guardare quello che accade dall'Italia, quello che accade nell'est dell'Europa e quindi in questo momento in cui la guerra in Ucraina è centrale crediamo che Bari sia il posto giusto in Italia da cui poter commentare, da cui analizzare quello che sta accadendo. L'appuntamento di Bari è utile anche per fare il punto sulla situazione economica e sul divario tra nord e sud con rappresentanti del governo e istituzioni locali, del resto proprio la Puglia ha dimostrato di poter guidare la ripartenza pur in un momento non favorevole per le conseguenze del Covid, del conflitto in Ucraina e della crisi energetica. Oggi ci consente anche di fare presenti le nostre preoccupazioni per il futuro dell'economia pugliese, della pace, un'infinità di cose che credo i telespettatori intuiscano e che si sentono ripetere in questi giorni. Le immagini, mentre c'era il talk con le interviste, le immagini che vedevo passare sul monito della nostra città dall'alto, ecco è una bella emozione, per fortuna vuol dire che questa città sta crescendo nel panorama nazionale. Voltiamo pagina e parliamo di Covid, sono 1.249.607 le persone attualmente positive al Covid, 3.449 in meno delle ultime ore, secondo i dati del Ministero della Salute, 66.535 positivi, 144 le vittime, ovviamente stiamo parlando dei dati a livello nazionale. Adesso invece ci colleghiamo di nuovo con il nostro sito web www.telebari.it, torniamo da Italo, 5 Palmi. Un cuore artificiale, un sistema di assistenza ventricolare di ultima generazione è stato impiantato con successo al Policlinico di Bari per salvare la vita a un paziente di 65 anni proveniente dalla Basilicata con scompenso cardiaco avanzato, refrattario alla terapia medica e con indicazione negativa per il trapianto di cuore. L'intervento è stato realizzato dall'equipe del professor Aldo Milano, direttore dell'unità operativa di cardiochirurgia. Il dispositivo di assistenza ventricolare preleva il sangue dal ventricolo sinistro, lo pompa ossigenato nella orta utilizzando il nuovo sistema di levitazione magnetica impiantato per la prima volta in Puglia. Questo dispositivo, spiega Milano, è stato dimostrato essere particolarmente vantaggioso rispetto in piante di vecchia generazione, si sono ridotte le complicanze di tromboembolie dal 30 al 10% e si sono azzerate le complicanze emorragiche di trombosi della pompa. Con questo nuovo sistema, aggiunge poi il medico, il paziente può ritornare a una vita sociale adeguata, anche riprendere l'attività lavorativa con delle limitazioni molto ridotte. Le batterie hanno un'autonomia di 40 ore, sono ricaricabili e i parametri possono essere monitorati a distanza direttamente dal cardiologo. E con questo è tutto quindi per oggi Roberto, a te, buonasera. Grazie Italo e adesso parliamo di un appuntamento di questo pomeriggio scrittori e maestri illustratori insieme per immagina il volontariato, il nuovo progetto del centro di servizi al volontariato San Nicola presentato questo pomeriggio al Museo Civico di Bari. Ce ne parla Maria Alessia Sforza. 15 scrittori, 15 maestri illustratori e 12 aspiranti disegnatrici sono gli artisti che hanno prestato la loro arte e il proprio cuore al centro di servizio al volontariato San Nicola per la creazione di Immagina il Volontariato, il progetto nato all'inizio della pandemia con la consapevolezza di essere in un tempo diverso ed eccezionale. L'obiettivo di far incontrare inizialmente le associazioni di volontariato con dei ragazzi, dei giovani, ovviamente studenti per lo più e nello stesso tempo lasciare che attraverso un corso che questi ragazzi hanno fatto con degli esperti, dei professionisti, parlare del volontariato attraverso le immagini, quindi un modo un po' innovativo di raccontare il volontariato attraverso i fumetti ed è stato poi fondamentale proprio in quel periodo perché il volontariato è bellezza, il volontariato è solidarietà, il volontariato è giustizia. Poter parlare di questi argomenti durante un periodo in cui l'orizzonte ultimo per i giovani poteva essere l'isolamento, la negazione, la morte è stata secondo me un'esperienza ancora più valida. Pubblicato dal centro di servizio al volontariato San Nicola per edizioni di Pagina L'Opera in collaborazione con la rete Bari Social Book, Immagina il volontariato contiene all'interno testi inediti e tavoli originali che descrivono un mondo, quello del volontariato, che assume sfumature diverse, che viene raccontato attraverso le parole e i disegni di chi con la propria arte riesce a trasformare il pensiero in un capolavoro. Spesso ne parliamo di welfare culturale, proprio perché si può esprimere in qualsiasi modo il rapporto con il volontariato e anche il fatto di poter fare questi fumetti, ma pensiamo di fare quest'anno per esempio, di far fare ai ragazzi delle locandine, coinvolge i ragazzi sulle locandine degli eventi, delle associazioni di volontariato. E arrivano da tutta la Puglia i delegati per l'Assemblea regionale di C agricoltori italiani chiamati ad eleggere il nuovo presidente regionale, è presente anche il senatore Dario Stefano, presidente della Commissione permanente sulle politiche UE del Senato, sulle nuove sfide del settore. Stiamo approfondendo uno sforzo importante per provare in questa contingenza, speriamo breve della guerra, di allevare il peso dei costi sulle materie prime e sull'energia che incombono anche sulla filiera agricola. Poi proviamo ad operare una spinta importante affinché le misure previste nel PNRR possano realizzarsi nei tempi previsti, che sono tempi stringenti, breve, perché ci consentano di innovare profondamente il sistema produttivo, di consegnare loro nuovi strumenti che ci aiutino ad affrontare meglio questa nuova era della globalizzazione, ma anche a strutturarci meglio di fronte alle nuove sfide che la pandemia e poi la guerra ci portano, una su tutte, il tema energetico rispetto al quale io credo che la filiera produttiva agricola debba sviluppare qualche riflessione con più coraggio rispetto al passato. La SSC Bari ha presentato questa mattina in conferenza stampa il nuovo main sponsor Molino Casillo e il logo dell'azienda Coratina sarà visibile sulle maglie dei calciatori già dalla prossima partita con l'Avellino. Sono molto felice, molto orgoglioso, sono contento perché adesso al di fuori di questa promozione questa è la prima nuova notizia di un nuovo corso, un corso importante non solo per una nuova categoria che abbiamo vinto, ma soprattutto per un sodalizio che si cementifica ancora di più in un momento non facile in cui una grande realtà, una grande eccellenza come il gruppo Casillo diventa main sponsor del Bari. E quindi oggi arriviamo a questo passo che è un passo che vi ripeto non è assolutamente banale sia per il ruolo che poi vogliamo svolgere su questo territorio, sia per come vogliamo interpretare la sponsorizzazione sportiva. Luigi ha fatto prima un passaggio e io credo che questo sia un aspetto che poi è il risultato determinante nella nostra decisione. Vogliamo interpretare il rapporto col Bari e il rapporto con i territori in maniera assolutamente innovativa. Cambiamo argomento, rimodellare i tessuti del viso con i fili di trazione, cosa sono e a cosa servono. Ne abbiamo parlato con il dottor Felice Cardone nella nostra rubrica Salute e Benessere. Ben ritrovati oggi, sono in compagnia del professor Felice Cardone, chirurgo plastico ed estetico. Ben ritrovato professore. Grazie. E allora oggi parliamo dei fili di trazione che è un trattamento per poter fare un lifting al viso senza bisogno della chirurgia. Di cosa si tratta nello specifico? Si tratta di mettere in trazione la pelle con degli aghi, quindi sostanzialmente con un po' di anestesia locale, che permette di infilare sotto pelle per un tratto che noi riteniamo rilassato di pelle e tirare il tutto per un tragitto di 4-5 cm che permette di tirare la pelle per almeno un centimetro e mezzo. Quindi sostanzialmente mettendo vari punti di trazione a livello del volto, per esempio a livello dell'arco mandibolare, della guancia, degli zigomi e del sovracciglio, abbiamo un effetto lifting senza fare incisioni cutanee. Quindi è qualcosa di innovativo effettivamente che però ha una durata di circa un anno, un anno e mezzo, non certo più di tanto. E questi fili comunque non vengono utilizzati soltanto per il volto, anche per il collo, per i glutei, per sollevare i glutei, per sollevare per esempio una parte delle braccia, a livello delle braccia se hanno quelle parti di cute molto rilassate per gravità o per post dimagrimento. Questo è un intervento che viene richiesto principalmente dal sesso femminile comunque. Anche se qualche volta molte donne preferiscono più avere un risultato duraturo come il lifting e quindi avere almeno per 10 anni un certo tipo di trazione che poi mantiene nel tempo. Non ci sono complicanze con i fili di trazione? Complicanze per quanto riguarda i fili no, un po' di rossore così, per cosette. Il lifting è un intervento molto più serio, molto più impegnativo sia per il chirurgo che per i pazienti e sicuramente richiede molta accortezza nella fase delle prime 48 ore dopo l'intervento per possibilità di formarsi ematomio, raccolte di siero e quindi delle accortezze maggiori le richiede. E allora io ringrazio il professor Felice Cardone per essere stato qui con noi, grazie mille. Prego, grazie. Per oggi è tutto, linea in studio. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, l'informazione di Telebari però prosegue sui nostri canali social e sul nostro sito www.telebari.it. A tutti un buon proseguimento di serata. Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Andiamo a vedere quello che succederà sabato sulla nostra penisola perché ci sarà un radicale cambiamento del tempo anche se momentaneo in questo weekend esclusivamente tra sabato pomeriggio e sera perché appunto un fronte freddo raggiungerà le regioni adriatiche con l'innesco di rapidi rovesci e temporali sul nord-est e il medio adriatico tra serata e nottata. Andiamo al dettaglio difatti. Possiamo vedere questo fronte freddo dal nord Europa si adosserà dal prima in mattinata sulle Alpi ma poi durante il pomeriggio rovesci e temporali sulla Lombardia orientale, Venezia, Emilia Romagna, qualcosina verso fine giornata anche sulle regioni centrali specie il lato adriatico. Tra l'altro una perturbazione è seguita da venti che romperanno forti di Grecale e Tramontana. Ecco l'instabilità nella seconda parte del giorno sul nord-est, sulla Lombardia orientale e poi in serata anche le regioni centrali, rapidi piovaschi, qualche acquazzone lungo l'Appennino, le aree interne della Toscana ed il medio adriatico. Non escludiamo localizzati fenomeni anche sul basso adriatico ma in un contesto di variabilità. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo oppure visitate il nostro sito web.